Ben tornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. La depressione ormai sul Tirreno permetterà al fronte instabile di risalire verso il sud Italia. Infatti in questa giornata ad essere interessate maggiormente dal maltempo saranno le regioni meridionali che vedranno aumento delle precipitazioni specie sui versanti tirrenici. Il centro sarà sotto nubi sparse ma con pochi fenomeni mentre il nord sarà interessato marginalmente da questa fase di maltempo. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 6 febbraio. Al mattino cielo coperto con piogge deboli sulla Basilicata occidentale. Cielo nuvoloso o coperto sul resto della regione e sulla Puglia. Durante il pomeriggio estensione delle piogge anche alla Puglia centrale e meridionale. Piogge sparse su entrambe le regioni di moderata intensità sulla Basilicata occidentale e sul Salento. In serata tende a migliorare ovunque ma permangono le precipitazioni sparse sulla Basilicata. Come possiamo notare dalla grafica le temperature saranno in calo di 2-3 gradi ovunque. Venti deboli occidentali e per quanto riguarda i mari molto mosso il Tirreno e lo Ionio mosso poco mosso l'Adriatico. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo per averci regalato questa particolare foto che ritrae Torre Chianca sulle coste di Porto Cesareo. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.